In questo momento abbiamo riaperto le selezioni, stiamo affrontando nuovi colloqui per ampliare la nostra equip, sia in ambito infermieristico sia in ambito fisioterapico. Buongiorno a tutti, sono Gianluca Pizzoccheri, vi parlo dagli uffici di Coesistenza, società cooperativa sociale in Sant'Angelo, Lodigiano. Da anni ci occupiamo di assistenza domiciliare integrata, ADI, SAD, la parte assistenziale e prelievi, su tutto il territorio lodigiano e anche su una parte del territorio pavese. In questo momento abbiamo riaperto le selezioni, stiamo affrontando nuovi colloqui per ampliare la nostra equip domiciliare e non solo. Stiamo cercando infermieri, stiamo cercando fisioterapisti e questo per occuparsi della nostra utenza, che in questo momento tutto sommato non è neanche poca. Per cui vi invito caldamente a inviarci i vostri curricula presso info-coesistenza.it oppure telefonando o lasciando messaggio in segreteria allo 0371 92559. Vi ringrazio e vi auguro sicuramente una buona giornata.